Aspetta, aspetta, creiamo il pathos perché abbiamo una delle voci più importanti e più belle dei nostri amati cartoni animati, quindi voglio un ultimo O da parte vostra su O! Grazie, ciao! Madame Messie, Clara Serena Lidane! Grazie, ciao! Io sono sempre emozionata, anche con le persone! Noi siamo cresciuti insieme! Siete bellissimi, bellissimi, bellissimi! E' sempre un grande piacere essere qua, vedervi, riproporre le cose che ci hanno emozionato, le cose della nostra storia, della nostra infanzia così bella, così nostalgica, ecco! E dunque per me è sempre... Grazie, grazie, voi! Io ringrazio voi, ringrazio voi che... Guarda, mi emoziono! Io ringrazio voi perché voi ci avete fatto da specchio. Noi ci siamo accorti man mano che i fans ci cercavano e che ci chiedevano di tornare, come nel 2000 quando abbiamo fatto al Piper, il primo ritorno, io e Jonathan. E lì, piangendo, abbiamo capito l'importanza di quello che abbiamo fatto e l'importanza di quello che voi rappresentavate come memoria storica della storia di ognuno e di tutti noi. Perciò vi ringrazio tantissimo! Brava! Grazie! Grazie a tutti voi! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!